ragazzi il conto si sta facendo al solito il suo piattino in attesa della carne però il suo piattino di antipasti non può mancare pane non c'è bisogno scelto guardate che magro ragazzi no non si riconosce più mai no vabbè questo che è solo antipasto però solo antipastino io mi sono prese invece queste pennette pomodorini gamberetti zucchine ovviamente non può mancare il parmigiano scelto guardate che meraviglia ragazzi faccio vedere che meraviglia guardate che meraviglia guardate ragazzi grazie comunque in arrivo la carne del conte lui comincia così scelto ragazzi io ho quasi finito guardate quanti gamberetti proprio no vabbè ma è la mia carne rostita la tua carne rostita vabbè non è male vero mo è buona ma paremmo sfidare e va bene dai alla fine si è mangiato un po di condimento vabbè ragazzi sta pasta buonissima io ve lo consiglio se vi trovate da queste parti venite e chiedete la pasta che si è mangiato annunzio certo la carne rostita la carne rostita del conto eccetto vabbè ragazzi a dopo buona festa ancora della mamma e noi pranziamo buon pranzo a tutti voi scelto io vi faccio vedere quello che mangiamo perché sto casito imbaccigliere e tutti chiari vero mo perché sennò non farei questo video ti parla con la bocca piena no hai ragione il conte è educato certo vabbè ragazzi buon pranzo a voi no vabbè